Sindaco Sciade è il primo grande nome, se togliamo via, quello di Elisa che è di casa ad approdare a Monfalcone, quindi una Monfalcone anche che si rivolge ai giovani come offerta. Ma è uno dei grandi nomi, il primo, ne avremo sicuramente altri. I nostri ragazzi meritano veramente delle chance, delle opportunità ed è quello che facciamo sempre anche al centro giovani, dove Innovation Young sta dando opportunità a ragazzi che peraltro non sono sempre soltanto di Monfalcone e ci sono delle belle prospettive. Oggi un ragazzo prima di Sciade ha dimostrato che le eccellenze possono emergere ed è quello sul quale lavoriamo per offrire loro dei percorsi di opportunità e di eccellenze e magari un giorno per arrivare ai livelli di Sciade.